Salve, sono Rado Valentin e sono rumeno. Non pratico Kung Fu. Anzi, questo è un vestito, è un abito tipico della Romania, si chiama Ie. Diciamo, è stato cucito dalla nonna di mia nonna per il suo futuro sposo. Ha più di cento anni e ho deciso di indossarlo per esprimervi meglio, prima che con le parole, il mio orgoglio di essere rumeno. Se sono qui oggi è perché un giorno, mentre stavo rientrando da Torino con il mio professore, ci siamo trovati a parlare, diciamo, del mio paese. Rientravamo dal salone del libro. Ad un certo punto ho parlato di un autore, Michael Minescu. Il prof non lo conosceva, però è stato subito incuriosito perché gli avevo detto che aveva scritto il poema d'amore più lungo del mondo. Passammo molto tempo a leggere e a tradurre. Luciafarul. Leggere e tradurre. Ovviamente non lo finimmo tutto perché è lunghissimo e né io né il prof abbiamo molta pazienza. Diciamo, è diventata una scoperta per me, ma è stata anche un'esperienza bellissima, perché avevo capito che non era l'unico autore di cui poter parlare e far scoprire la Romania. E così, un pomeriggio, mi sono messo a studiare per più di quattro ore e ricercare di capire tutti gli autori e tutti i grandi uomini della Romania. Inoltre, usando i social network, mi sono messo in contatto con docenti del mio paese che mi hanno appunto segnalato i casi degli autori più grandi. Rumeno come me è Stefan Celmare, re della Moldavia nel quindicesimo secolo. Combattè 36 battaglie, ne vinse 34. Dopo ogni vittoria faceva costruire un monastero, perciò la Moldavia ne è bellissima. Rumeno come me è Enrico Hande, ingegnere aeronautico. Ideò il primo aereo senza elica, costruì il primo cannone per gli aerei senza rinculo e ideò un pannello solare per la desalinizzazione dell'acqua marina. Rumeno come me è Nicolae Paulescu, grandissimo scienziato. Fu il primo a scoprire il rimedio per i diabetici, la pancreina, però per mancanza di fondi non riuscì a portare a termine la ricerca e così due canadesi lo fecero prima di lui. Quel rimedio fu poi chiamato insulina. C'è un oggetto che è entrato nella vita di noi tutti e chissà forse tra poco ne uscirà. Penna portatile senza fine che si ricarica da sola con inchiostro, lei ha definì il suo ideatore. Era un miracolo al tempo. La prima penna stilografica fu brevettata da un 28enne rumeno. Ci sono persone che chissà come e chissà perché riescono ad essere primo in tutto. Lui fu primo a viaggiare con un treno, lui fu il primo a portare un giornale in Romania e inoltre cambiò la scuola e la politica. Rumeno come me è Petrache Poenaru. La conoscete vero? Lei non ha bisogno di presentazioni. Sapete quanto ci hanno messo a costruirla? Due anni e quattro mesi. Dietro questo grande record c'è un ingegnere rumeno. Al signor Eiffel sono tributati tutti gli onori, ma il vero miracolo lo ha fatto questo ingegnere quarantenne, rumeno come me e Gheorghe Panculescu. La World Record Academy l'ha riconosciuto come il poema d'amore più lungo del mondo, 99 strofe. E' Luciafarul, l'opera più nota di Mihai Minescu, rumeno come me. Narra di Catalina, una ragazza che guarda in astella, Luciafarul, e se ne innamora. La stella si innamora anche lei e le chiede di diventare immortale per amarsi per sempre. Ma lei rifiuta e dice che è lui che deve scendere sulla terra e diventare mortale. Allora il Dio immortale cosa fa? Decide di morire per amore e va dal Dio padre per essere esaudito. Ma intanto accade qualcosa. Catalina fa innamorare Catalina, non una stella, ma un umile servitore. E lei finisce per innamorarsi anche lei. Terribili le parole finali del Dio. Vivendo nel vostro cerchio stretto, ovvero la vostra terra, la fortuna vi passerà, ovvero morirete. Ma io nel mio mondo mi sento immortale e freddo. Nella poesia c'è la vita, i suoi sogni, ma anche le illusioni altrettanto reali. Ci sono la piccolezza, la mutevolezza, l'ipocrisia di cui è fatto l'umano. Il limite. Non è di questo mondo la perfezione. Eppure, quella volta, quella volta per la prima volta, tutti la riconobbero. Tutti, di fronte a tanta bellezza, si ritrovarono ad alzare lo stesso numero, quello della perfezione. Il tabellone, che non può superare i limiti, era programmato fino a 9,99, ma in realtà quel voto era più alto. Sul tabellone venne indicato il numero 1, ma in realtà era un 10, per la prima volta in un'esibizione olimpica. Rumena come me è Nadia Comenec, la più grande ginnasta di sempre. Rumeno come me è Michael Sadoviano, scrittore di Verschenne. La sua opera più importante è Baltagul, tradotta in italiano con il nome La Scure. Lo dico con orgoglio, perché il suo piccolo paese è il piccolo paese da cui provengo io. E questa è la casa che i miei genitori stanno costruendo. Io vengo da Policoro, provincia di Matera. Lì c'era un valore grandissimo che nessuno sapeva come trovarlo. A volte oggetti di grande importanza che erano lasciati a marcire in depositi, eppure tante volte neanche cercati sottoterra. Questo valore ce l'ha fatto scoprire un grande archeologo. Oggi lì c'è un bellissimo museo della Magna Grecia e porta il suo nome, Dino Adamestiano, rumeno come me. Giori Chagi, rumeno come me, ha giocato nel Real Madrid, Barcellona, Galatasaray e persino in Italia con il Brescia. Il re, il comandante, il Maradona dei Carpazzi. Dopo aver fatto sognare i suoi tifosi con le giocate migliori, ha iniziato a fare una cosa ancora più grande, insegnare. Ne è nata così l'Accademia Chagi, un vivaio calcistico che forma i giovani rumeni. E poi nel 2009 ha formato una squadra. Questa squadra è poi approdata nel massimo campionato rumeno. Addirittura l'anno scorso lo ha vinto, questo campionato. Volete sapere quanto ha speso per raggiungere questo sogno? Qualche miliardo? No, 10.000 euro. Non ha scommesso in soldi, ma in speranza, in fiducia, in futuro. A proposito di futuro, rumeno come me è Michael Kogelniciano, uomo politico del XIX secolo. Portò la Romania verso un grande sviluppo. Era un uomo con lo sguardo sempre in avanti, disse un giorno. Il mio paese è qualsiasi posto nella terra in cui si parla rumeno. È proprio vero allora. Il nostro orizzonte è il mondo. Il concetto di nazione è prima culturale che geografico. E infatti io, oggi qui, nella vostra terra, mi sento rumeno. Ma mi sento rumeno anche grazie all'Italia, perché questi autori non li conoscevo. Mi è stato chiesto qui di scoprirli, grazie alla vostra scuola e allo stimolo di insegnanti che mi hanno chiesto di andare a fondo alle mie radici. Perciò la mia idea è semplice. Quella di una nuova sezione di TED per ragazzi stranieri che preparino microconferenze sui grandi autori dei loro paesi, in modo tale da non rimanere soggetto passivo dell'integrazione, ma diventare protagonisti dell'integrazione, come è successo a me. In modo tale da non limitarci solo a ricevere, ma iniziare a dare. E adesso, guardate qui, si intitola Il bacio. Un grande blocco di pietra che dà forma a due persone che si baciano. «Gli occhi si fissano gli uni sugli altri e le braccia si stringono in un abbraccio amoroso». Lo scultore elimina tutte le decorazioni e vuole comunicarci una sola cosa, la felicità di un uomo e una donna che si amano. L'autore di questa opera è Constantin Bruncus, rumeno come me, Constantin Bruncus. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.